Il ponticello su via Baiona, nei pressi del piccolo hotel e del cimitero, a dire di residenti e pendolari della zona, è stato declassato e possono passare solo mezzi con portata non superiore a 33 tonnellate, ma il limite ai camion pesanti non viene rispettato, in quanto passano indisturbati in assenza di puntuali controlli da parte degli organi competenti, che comunque nei mesi scorsi hanno sanzionato diversi camionisti su Viale Europa. I residenti che hanno appreso queste misure nei confronti di chi guida tali mezzi si chiede cosa potrebbe succedere se il ponte venisse ulteriormente danneggiato dall'usura dei mezzi, anche eccezionali, che vi transitano sopra. Il rischio è quello di una deviazione di tutto il traffico per il polo chimico su altre strade alternative che creerebbero un forte disagio ai lavoratori e ai cittadini in generale, lasciando scarica di transito veicolare tutta la zona del cimitero. Grazie 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 Grazie